E' stato inaugurato il Parco Avventura di Postiglione. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza del sindaco di Postiglione Carmine Cennamo, del presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, del consigliere provinciale delegato al turismo Pasquale Sorrentino e di tanti altri amministratori del territorio. Il Parco Avventura inaugurato permetterà di svolgere tante attività all'aperto, a contatto con la natura, vari percorsi che permetteranno a grandi e piccini di divertirsi. Di parte con il successo di ieri, perché non dimentichiamo che pur essendo stato aperto due mesi ha avuto circa 150.000 presenze. Significa che il posto che è stato individuato è positivo perché siamo allo svingolo dell'autostrada, siamo a due minuti dallo svingolo, è un bosco bellissimo, stiamo parlando di 400 ettari alle spalle, compreso i cinque che sono qui del parco. È un qualcosa che il comune di Postiglione ha sempre creduto, è stato un lungo parto, poi finalmente questo parto è venuto fuori. Crede, perché crede nella possibilità di sviluppo e crede di poter fare in sinergia con le attività, quelle bellezze che sono all'interno del proprio territorio, fare sinergia, far conoscere queste belle realtà, la grotta di Sant'Elia, la nostra montagna, il nostro castello, la nostra gastronomia, tutto quello che è tipicità, tutto un lavoro che stiamo facendo, avendo partecipato al progetto Borghi e Benesseri, perché è un progetto che mira non ad avere il contributo per gestirlo per una serata, ma mira a far crescere il territorio e fare in modo che si trovi in sinergia con gli altri paesi e che crescono insieme perché bisogna ragionare in tal senso. Il parco sarà un momento di grande sviluppo per il paese, bisogna ringraziare chi prima ha avuto questa idea, oggi il chilo sta gestendo oggi perché la persona che gestisce oggi è uno che ci ha creduto sempre e quindi ha combattuto in tutto questo e significa che tanti ragazzi di Postiglione stanno lavorando qui, significa che Postiglione è conosciuto ancora di più per quello che è la realtà e finalmente dopo tanti anni questa realtà viene assegnata, destinata a qualcosa di importante e significativo, perché prima era destinato alla pastorizia, a qualcosa che oggi non c'è più nelle nostre realtà e oggi questa bellezza viene sfruttata per questo, tenendo conto che dietro di noi abbiamo un casolare antico che è bellissimo con un'altra area di circa 7 ettari che può essere importante e significativa ancora per fare una fattoria didattica, quindi tra virgolette fare questo territorio, farlo conoscere, sfruttarlo per quello che è perché dà una possibilità occupazionale e effettiva di sviluppo e di rilancio del nostro paese. Sì, ero curioso di vedere questo bellissimo luogo all'inizio proprio del Parco del Cilento e del comune di Postiglione, un'oasi di verde bellissima che è stata attrezzata con i fondi del PSR, del piano di sviluppo rurale della vecchia programmazione, sono state realizzate le strutture, c'è una cooperativa che gestirà nella fase di start-up, di avvio per qualche anno quest'area, sperando che da questa gestione possa essere anche ricavato lavoro stabile per il futuro, però la cosa importante è consegnare ai cittadini la possibilità, non soltanto di Postiglione, ai cittadini dell'area e anche quelli che possono venire da fuori, di fruire di un'area bellissima, un polmone naturale di area pura, di bellissimo verde e la possibilità di fare picnic, di fare attività sportive, di attività all'area aperta, è quello che noi dobbiamo fare. Dopodiché bisogna collegare queste attività e queste iniziative e metterle in rete con altre cose, affinché si possa creare anche un flusso turistico, siamo alla vigilia dell'inaugurazione dell'aeroporto Salerno-Costa da Malfi, che è roba di lunedì prossimo e queste iniziative vanno poi messe, come dicevo prima, in rete e propagandate nel modo giusto, perché credo che interesseranno sicuramente i cittadini che verranno a visitarci su questa parte del territorio. Ci siamo raccontati per anni che il turismo fosse solo un volano, fosse un'offerta, fosse una proposta, in realtà l'apertura, la riapertura, la ripartenza di questa struttura dimostra il contrario, dimostra che il turismo è un sistema, un sistema di elementi che debbono convergere, debbono andare in un'unica direzione, soprattutto perché il turismo si fa guardando i numeri, le percentuali, le statistiche, i fatti, le opinioni, fino a un certo punto, ma poi sono i fatti quelli che ci condannano alle scelte, questa è la sintesi di una serie di scelte buone, perché coniuga ambiente, sostenibilità, turismo, un posto per famiglie, un posto per giovani, un posto per tutte le categorie, quindi immagino questo, una perfetta fotografia di quello che è un dato che abbiamo da sempre rilevato, più 28% turismo all'aria aperta, mi basti dire questo, più 28% turismo open air, più 10% gli holiday worker, quelli che vengono in vacanza a lavorare, quale è il posto per trascorrere qui, non solo dei giorni, ma delle settimane, dei prenotamenti e soprattutto delle occasioni di incontro tra le varie comunità di tutta la provincia.